Da lunedì si potrà tornare in classe al 60% nelle scuole superiori per arrivare poi al 100%. Questa è l'indicazione del Governo contenuta nella nuova bozza di decreto. Il rientro graduale potrà essere anche legato ai trasporti pubblici, la cui capienza è ridotta al 50% per le normative anti-Covid. Con l'Abruzzo che scalpita per il giallo, come si stanno organizzando gli istituti superiori cittadini? Rete 8 è entrata nell'Istituto Tecnico Industriale, che è uno dei più importanti dal punto di vista numerico. Il ritorno sarà graduale, spiega la Preside. Noi attualmente siamo al 50% delle classi, abbiamo sperimentato nel mese di febbraio già un'organizzazione fino al 75%, non al 75% netto, ma con percentuali varie a seconda degli indirizzi. Pensiamo di riproporre questa soluzione che abbiamo già sperimentato. Secondo me pensare a un rientro al 100% in questo momento forse è un pochino azzardato, vista la situazione dei contagi, almeno qui nell'Aquilano, i contagi non si sono fermati. Noi abbiamo diverse segnalazioni, abbiamo tre classi in quarantena. Già in passato l'ITIS aveva sperimentato il rientro al 75%, anche perché gli spazi sono stati ben organizzati e gli ingressi e le uscite ben distinte, ma il rischio è di assembramenti esterni e alle fermate, per cui si procederà con percentuali che potranno variare dal 65% al 68% indicativamente. Un minimo di misure di cautela anche in previsione degli esami di Stato, dei ragazzi che saranno impegnati e dei professori che saranno impegnati negli esami di Stato. Ecco, agire con una maggiore cautela credo che sia la soluzione migliore, quindi rientreremo in una percentuale fino al 70%, che per gli indirizzi varia dal 66% al 69%. L'abbiamo già sperimentato, è una situazione gestibile, anche se la scuola non avrebbe problemi, nel senso che dall'inizio dell'anno noi abbiamo organizzato gli spazi che sono adeguati alle misure di distanziamenti previste dai protocolli del CTS, ma è soprattutto la gestione degli ingressi, degli assembramenti fuori la scuola, dei mezzi di trasporto che ci preoccupa.